abbiamo tentato di capire il libro di giobbe don ma non ci siamo riusciti ci puoi aiutare cari amici di don caffè buongiorno a tutti spero che questo vento non sia troppo forte e quindi la mia voce giunga lo stesso e il libro di giobbe diversi mi hanno fatto domande sul libro di giobbe voi perché anche io avevo introdotto qualcosina avevo detto di cominciare a sperimentarsi a fare qualche riflessione però mi rendo conto che è difficile e quindi diamo qualche coordinata non me ne vogliano i biblisti è chiaro che questo è un video divulgativo non sarà un grandissimo approfondimento un video che possono seguire tutti quanti allora innanzitutto giobbe fa parte di 5 libri sapienziali che ci sono nella bibbia proverbi coelet sapienza siracide e appunto giobbe cosa vuol dire libri sapienziali allora innanzitutto capiamo subito che non sono libri storici quindi noi non dobbiamo andare a cercare in un libro sapienziale delle informazioni di tipo storico sarebbe un errore sicuramente possiamo capire possiamo intuire che per libri sapienziali sono quei libri che raccolgono la sapienza di un popolo è una sapienza che si deposita nel tempo e che quindi non è cristallizzata in un solo momento anche perché appunto sono cinque i libri sapienziali ci sono posizioni diverse ci sono metodi di indagine diversa della sapienza la sapienza che cos'è è un po la saggezza di un popolo ma nella bibbia troviamo libri sapienziali che riguardano il rapporto con dio che è uno degli elementi costitutivi dell'essere umano e qui però dobbiamo subito intuire che c'è un elemento importante l'universalità cioè quando io parlo di un uomo di una donna di una famiglia non sto parlando di un uomo specifico anche se sto raccontando una storia specifica cioè quindi io sto proponendo un'immagine una figura che sia universale quindi se noi diciamo giobbe è vissuto in quell'epoca sì lo possiamo anche dire in un certo senso ma non è così importante ciò che conta è che tutte le volte che un uomo si troverà nella posizione di giobbe lì è giobbe ecco noi non siamo abituati a questo perché noi arriviamo da una mentalità un po scientifica scientista per cui quando noi raccontiamo la storia vogliamo le date ecco la bibbia si muove molto di più attorno alla sapienza ecco è un po come quando si racconta una leggenda non è così importante sapere esattamente che cos'è successo quanto il suo significato ecco che cosa sono i libri sapienziali quindi abbiamo capito che nei libri sapienziali noi ritroviamo i misteri della vita dell'uomo vissuti dalle persone magari anche reali ma che sono di tutti gli uomini quindi l'amare il soffrire il morire il vivere il nascere e ovviamente il mistero di dio come ogni uomo risponde al mistero di dio ecco il libro sapienziale non dà una risposta univoca come fosse un catechismo ma dà delle tracce di pensiero perché ciascuno si possa confrontare confrontare con la vita di giobbe ad esempio e il libro di giobbe è uno di quei libri su cui tutti gli autori si sono cimentati perché proprio per la sua profondità siamo intorno al 530 siamo intorno all'epoca post esilica momento nel quale si comincia ad affermare l'identità di un dio unico ma la storia non racconta di questa epoca racconta di un uomo che oltretutto non appartiene neanche al popolo di israele un uomo ricco un uomo straricco potrebbe somigliare un po a un sultano a un ricco possidente terriero ecco a cui capita di tutto fino ad arrivare a giacere nell'immondizia dove si pone sulla cenere ecco ci sono delle figure c'è una cornice narrativa all'inizio e alla fine cornice narrativa e in centro c'è il vero e proprio poema questa cornice narrativa però potrebbe condurre fuoristrada tant'è che forse a volte alcune interpretazioni lasciano un po il tempo che trovano ecco anche san girolamo che ha tradotto per la prima volta in volgare appunto ha scritto la vulgata perché fosse leggibile dal volgo ha definito il libro di giobbe un po come un'anguilla che non riesci ad afferrarlo ti sfugge tra le mani ecco e questo è così perché volutamente così ecco in questa cornice narrativa si parla di questo uomo e si parla di questo satana che si presenta alla corte di dio ecco una cosa che dobbiamo subito capire questo non c'entra niente con il diavolo di cui parla la chiesa ok di cui parlano tanti santi è una figura un po mitologica di un avvocato un avvocato che presenta la lo diciamo anche noi no c'è c'è un modo di dire l'avvocato del diavolo no cioè che mette alla prova la vita delle persone al cospetto di dio ecco però davvero non dobbiamo arrivare a pensare che quello sia il demonio quello che viene scacciato da Gesù eccetera è una figura retorica una figura mitologica che cerca di mettere in cattiva luce no siccome dio è troppo buono troppo ingenuo ecco allora c'è questa figura e che cosa dice questo dice sì sì è bravo giobbe però pelle per pelle cioè lui ti vuole bene perché in fondo gli va tutto bene facile volerti bene quando ti va tutto bene ed è vero no finché le cose ci vanno bene vogliamo bene anche a dio no poi quando le cose ci vanno male ecco che ce la prendiamo con dio e allora dice ciao io gli porto via tutto dio dice va bene portagli via tutto e lì appunto tutti i suoi beni e poi però c'è la questione della pelle dice sì però finché non ti toccano nella pelle può ancora essere sopportabile la cosa in fondo se muoiono i figli il male è di riflesso no allora e allora dio dice va bene fagli quello che vuoi basta che non lo uccidi e quindi a giobbe cosa succede a giobbe succede di tutto anche fisicamente e arriva al punto più basso della della vicenda umana della sofferenza della disperazione diciamo così e lui arriva seduto nella cenere a grattarsi questa specie di lebra che gli si forma con un coccio immagine famosissima anche di un romanzo eccetera che perché appunto tutti si sono confrontati con questo con questo personaggio e da lì comincia il vero e proprio poema quindi termina la cornice narrativa e all'interno di questo poema ci sono tre amici tre personaggi tre amici di di giobbe e la moglie di giobbe la moglie di giobbe parte subito con con un'accusa diretta dice stai sei ancora fermo nella tua ricerca di un dio che ti voglia bene sei sei sicuro di questo guarda che forse faresti meglio a benedirlo in faccia che vuol dire bestemmiarlo e morire perché no non si merita niente altro insomma no questo dio e c'è un'espressione che che giobbe usa che è diventata molto famosa e che dice ma io sono uscito nudo dal grembo di mia madre e nudo posso posso restare posso tornare ad essere tale no e questa addirittura è una un'espressione che c'è nei riti funebri islamici dell'islam perché anche l'islam si è confrontato con con questa figura no e perché è molto bella cioè uno dice ma la mia vera identità non sono né le cose che possiedo ma neanche la salute però c'è la questione di dio e qui sarebbe lunghissimo perché il libro ha decine decine di capitoli ma quali sono le posizioni le posizioni sono le più diverse e giobbe viene sottoposto a queste ipotesi che gli propongono i vari amici del dire si vede che dio ti sta punendo che dio vuole metterti alla prova che dio ha qualcosa contro di te che tu magari non lo sai oppure forse i tuoi figli hanno fatto qualche cosa insomma tutte le ipotesi possibili ed è interessante perché dentro in queste tutte ipotesi possibili troviamo tutti i pensieri che facciamo anche noi ecco perché c'è l'universalità di questo testo perché dentro qui ci sono tutte le ipotesi possibili come termina cioè qual è la parabola di tutto questo è che giobbe resta fermo lui dice io non lo so perché mi capita questo io so che non ho fatto nulla di male ma in ogni caso io so che il mio redentore è vivo e che alla fine dei miei giorni io lo vedrò con i miei occhi quindi voi dite quello che volete ma io non voglio fare ipotesi ecco questa è la cosa bellissima che dobbiamo subito prendere come valore di questo testo no un uomo che dice ma io non so ecco e questo e questo è imputato a giobbe come giustizia ecco questo per noi è importante cioè questo atteggiamento tra tutti gli atteggiamenti che potrebbe avere un uomo a cui capita tutto questo questo è l'atteggiamento più promettente di un uomo che ritira le ipotesi e dice non lo so mi affido mi fido mi fido nell'identità di dio ora capite che dentro qui c'è un'indicazione grandissima non che sia facile arrivare a questo intendiamoci no ma è un'indicazione di metodo è un'indicazione di pensiero è davvero una sapienza ed ecco che a questo punto arriva una sorta di risposta di dio una risposta che non è completa perché dio non definisce però dichiara che questo è l'atteggiamento giusto il mio servo giobbe non ha peccato non ha fatto un errore di pensiero ecco non no non ha compiuto pensieri maligni contro dio però dice ma tu dove eri mentre io creavo la terra cioè di dire ok no va bene però attenzione che comunque tu non puoi sapere tutto e quindi dio in qualche modo dice d'accordo va tutto bene però attenzione che tu non conosci il mistero stesso di dio non conosci il mistero della vita dove dove sei tu mentre io creo il mondo no sei sei pulviscolo sei nulla ecco ed ecco allora che ci avviamo alla nostra conclusione giobbe è mai esistito è una domanda che non si pone non importa se giobbe sia esistito storiograficamente o no quello che conta è davvero che in ogni situazione simile alla situazione di giobbe lì è giobbe però quello che conta quello che conta davvero capire è che giobbe rifiuta fondamentalmente quattro idee il rapporto tra peccato e punizione giobbe non lo accetta e infatti gli viene imputato come giustizia questo non è un rapporto da tenere la vendetta come rabbia che va contro dio altro punto arrabbiarsi contro dio non è la strada terzo la morte come resa quindi se non c'è più niente da fare se non c'è più un pensiero che mi sostiene allora è meglio morire che vivere quarto quarto il silenzio come luogo del dialogo e questo è molto importante perché in questo dialogo ci sono degli amici che dicono cose c'è una moglie che dice cose c'è un io che dice cose ma il silenzio di dio è ciò che è più importante di ogni altra cosa anche davanti alle situazioni di male quindi in queste quattro posizioni fondamentalmente giobbe combatte contro le false immagini di dio combatte contro le false immagini di sé combatte contro delle ipotesi che sarebbero fuorvianti e quindi combatte anche con dio perché cerca di non fare ipotesi su dio e di permettere a dio di essere se stesso e cerca delle parole che siano di dio quindi questo vero combattimento è il combattimento del credente dell'uomo di fede che non sa tutto ma che cerca qual è la verità del volto di dio questo è bellissimo ecco su questo io lo dico in un paio di battute di squisire sull'esistenza di giobbe o sull'esistenza di satana perché c'è scritto nel libro di giobbe che c'era satana e c'era giobbe è come credere che esistono i lupi parlanti perché c'è un racconto che ne parla che si chiama capucetto rosso ecco e questa è proprio la stupidità delle persone che vanno a citare la bibbia senza averla capita e l'altra l'altra ipotesi è che dio fa morire i figli i servi il bestiame gli animali di giobbe come ha fatto poi a ridargli tutto gli ha ridato gli stessi o gliene ha ridati altri ecco è un po' come che pensano che al polo sud i pinguini sono a testa in giù cari amici del diddo caffè io mi fermo qui vi consiglio davvero di approfondire questo libro che è meraviglioso così come tutta la sacra scrittura per accogliere davvero qual è la parola di dio e quando davvero siamo davanti a situazioni inestricabili del vissuto umano forse la fede di giobbe vuol dire rimanere fermi e attendere di poter capire non essere frettolosi nel cercare un volto di dio che potrebbe essere sbagliato grazie a tutti per essere arrivati fino qui scrivetemi quello che ne pensate scrivetemi le vostre risonanze e andiamo sempre avanti e poi se avete altre domande sempre sulla sacra scrittura perché possa diventare parola di dio eccomi qua buona giornata a tutti e al prossimo video ciao